Partiamo dalla riete. Vi sentirete oggi dei rivoluzionari. Potenzierete le vostre forze e coglierete un'occasione al volo per cambiare il corso di un evento. E riuscirete a trarne anche un conclamato successo. Molto bene anche l'amore. Toro, avete messo troppa carne al fuoco e risultati stentano ad arrivare. Non perdete la calma che vi ha fatto raggiungere questi traguardi. Piuttosto tenete duro e invitate un socio a un maggior controllo di un comune conto economico. Gemelli, il vostro genio vi ha già salvato. Chi di voi si sarà inventata un'attività o un nuovo lavoro oggi comincerà a percepire risultati. Le stelle vi danno la giusta creatività per promuovere ancora nuovi progetti. Cancro, date spazio alla vostra voglia di fare in tutti i settori. In casa, se vorrete rivoluzionare il vostro habitat, fatelo senza sprechi. Leone, questa volta le discussioni in famiglia porteranno a qualcosa di decisivo. Prenderete volutamente l'argomento che è ormai considerato il cosiddetto pomo della discordia. Vergine, novità piacevoli nell'ambito di famiglia che riguarderanno la casa con l'occasione di qualche lavoretto indispensabile da fare. Prenderete coraggio e volontà e darete il via anche ad un bel restyling. Bilancia, inizierete una relazione appassionante con una persona che conoscete da poco. Una figura però rassicurante che vi aprirà nuovi scenari, un modo nuovo di amare e di vivere la coppia. Scorpione, se vi andrà di perdervi, non fatelo su quello che riguarda denaro o affari. In questi settori, invece, occorrerà mantenere la massima concentrazione. Non sono concesse distrazioni. Sagittario, è il momento che tutto vi è concesso, anche i cambiamenti più repentini. Siete supportati da quelle stelle che vi favoriscono nel rinnovamento e allora perché non osare adesso che avete la possibilità di cambiare senza prezzi da pagare. Capricorno, sarete travolgenti nelle vostre idee e i progetti che porterete avanti saranno meritevoli di attenzione. Troverete chi saprà apprezzarvi nella giusta maniera e soprattutto aprirà nuovi scenari del lavoro. Acquario, siete rinomati per avere l'idea azzeccata al momento giusto. Questa vostra qualità è frutto di un ottimo lavoro interno, ma soprattutto, nell'ultimo periodo, anche esterno. Pesci, le bugie hanno le gambe corte e oggi ne avrete prova e dimostrazione. Sarà stata una scappatoia che vi porterà però una serie di rogne e cercate di recuperare con l'irresistibile fascino che avete oggi e risolvete ogni inconveniente.